Ok, adesso facciamo questo, il movimento delle braccia sulla palla Ok, rilassa le braccia, i gomi, i vicini, i fianchi, ok, prova Valentina Vai, buono Vai, recupera Vai Quindi la palla è sempre in posizione di partenza, male un po' su, gusto in avanti, il piede destro, avanti a sinistro Tritti, arriva la palla alta, vai, vai laterale, così, tieni eh La palla la devi impattare prima delle spalle, qui, non qua, ma prima che arrivi sulle spalle, devi essere rapida Riproviamo eh, vai, qua, prima, brava, molto bene Troviamo dall'altra parte, vai, qua, prima delle spalle, tieni verso l'opera, non con i piedi, con le spalle Guardate eh, provate, vai Ok Vai, prova Ok Vai Vai Parti bene dalla posizione di partenza, con le mani, eh Con le spalle La palla, qua, prima che passi la spalle Vai Vai Brava Vai Brava Unia bene Unia bene Vai, vai Ok Metti il Bayern appoggiando il dorso della mano per terra Così Adesso io guardi la palla, fai il Bayern Bravissima Bravissima Ok Con questo giochino qui, eliminiamo il contromovimento No, perché non possono fare questo, perché sennò danno una manata per terra E' molto carino per le piccole, eh, mini volley Oh, ma questa è brava Oh, Luisa, l'hai arrivata bene È proprio brava Vai Brava 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 Molto bene Impreciso Elisa Impreciso Scusate Brava Questa è buona Molto bene Ok Vai Dimiti il Bayern bene E' facile Non vada più, già lo sa Non vada più già da sa No Prima cosa mi disse andrà via vai precisa la palla non sbracci troppo quando arrivi sulla palla ti devi fermare non devi continuare con i metti dai proviamo su con le spalle vai le altre possono provare poi al turno le facciamo venire qua no, questo era buono adesso le faccio molto bene ferma le braccia ferma le braccia sulla palla bravo no, adesso il destra va a sentire la attrezza è simile devi tenere così sentire che tu ti muovi più così, bravo dai, io ho portato il corpo in avanti vai oh, potremmo sfruttare va, potremmo sfruttare vai vai bravo ok ok bravo bravo ok 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 1 bravo, si è appartato, la freccia, troppo asciuga, la ripresa e qui, si abbassa tutto in contatto vai qui, guarda, vai, ok, vai controllo e seconda donna, controllo e seconda donna tenete i bracci distesi per un baglato, uno, tenete i bracci distesi per un baglato, due attenzioni, uno e due, bravo, uno e due vai, bravissima, questo non è mai in avanti, più precisa, più precisa vai 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 molto bene brava brava più preciso vai molto bene brava bene brava ok vai va bene vai molto bene brava 1,2,3,4 però veloce 1,2,3,4 1,2,3,4 l'avete ripreso? adesso proviamo a fare questo dai che ci sei la ristina cambiate piedi bravo 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 tranquillo bravo vai 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 via via viene più di varicata le gambe torna sempre a posizione iniziale via rapida rapida vai cambia le gambe ci sono esercizi di coordinazione per i piedi Grazie. E lo fa bene, eh? Cambio piede. Ok, cambio. Andiamo qua la riserva. È un po' di varicate? È un po' di varicate. 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 Sembra facile, eh? Ma non è così semplice, eh? e ritorniamo a posto sempre in posizione di bagno si si ok vai vai molto bene vai ok cambio una volta da una parte vai già da unisci abbraccia flesse prima devo distendere abbraccia sono distese prima che non vissi ribraccia prima che unisco sono distese dopo le uniscono non è che prima unisco torna a posto adesso bagno di qua vai adesso di qua ok non andare fuori cacco mantieni sempre asso troppo macchinoso quel movimento già è più sciolta dai facciamo cambio no divarica le gambe parti così vedi c'è la posizione di partenza ecco le gambe un po' più là è così un piede davanti uno dietro e poi vai 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 mettiti sempre in posizione di ricezione immagina che stai ricevendo in zona 1 prendi più campo così vai arriva una palla lì vai torna a posto con calma e ti arriva una palla di lastro ok vai vai parti bene nella posizione di partenza però eh prima non avere fretta prima mettiti bene rilassa le braccia rilassa giù e poi parti veloce adesso non avere fretta rilassa le braccia brava Vale ok adesso immagina vai ok sempre la palla di mandare in zona 3 eh no in tribuna mi raccomando in maniera è confusa in avanti eh inizioni brava 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 vai precisa sempre precisa scambia testa guarda vai 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 uno vai dietro vai 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 bravo 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 vai 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 poi torni dietro vediamo vai, basso, basso basso vai, basso vai, basso vai, basso vai, basso vai, basso ok vai, basso ok vai, basso prova vai, serbato vai, basso brecisa, eh vai, precisa arriva sotto la palla con i piedi arriva sotto No, 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 no. Stai rilassata con le braccia, le gambe si muovono per conto loro, le braccia 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 si muovono per Vedi, se mi fate le uscite così. Vedete qui, io sto fermo lì, sono i piedi che si muovono. Ma non è che faccio così. Sto sempre lì e poi ritorno. Sto lì e poi ritorno. Vediamo! Vai! Ok, via! E dopo t'arrivi in tutto questo sfigato e metti in linea quella cosa e lei si perde. Vai! Vai! Ok! Allora la faccia per breve! Dio, sono i palazzi. Non pare il palesso, non pare il paletto. Non pare il paletto! Non pare il paletto, non pare il paletto! Non pare il paletto, via il paletto! Vediamo anche le palette giallo, imprecisi, imprecisi! In testa mi deve dare la paletto. Vai! 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 Non pare il paletto! Cambio! vai 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 Vai, 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 vai Oh Precisi Precisi Precisi. Precisi. Precisi vuol dire che la palla è arrivata nella testa. Oh, fai da precisa. No. Vai. Vai. Precisi. Non fare due metri strani. Un po' di grande. Ok. No. Ma i prossimi metri strani. Non riusci. Non c'è quello che ne vora. Vai. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.